Oggi la città di Venaria è riunita in questo meraviglioso Parco della Mandria per gli Stati Generali. Avvocato Chiappero, qual è il futuro del parco? Il futuro del parco è nelle mani prima di tutto della Regione, ma è anche nelle mani nostre, di noi cittadini che vogliamo in qualche modo usufruirlo. È un parco meraviglioso che deve essere mantenuto in forma dal punto di vista naturalistico e stiamo facendo tutti gli sforzi per aprire le rotte, per migliorare le alberate, per fare in modo che i nostri laghi siano sempre più belli e con una fauna acquatica migliorata, ma soprattutto stiamo cercando di recuperare anche pezzi importanti della nostra storia architettonica perché Villa Laghi, grazie alla Regione, ha ottenuto un importante finanziamento per essere messa a posto, Cascina Rampa verrà messa a posto, un pezzo di Borgo Castello potrà vedere l'inizio dei lavori di ristrutturazione. Io spero e mi auguro che col tempo questo posto torni ad essere anche sotto il profilo architettonico completo, funzionale e meraviglioso come era un tempo. Quest'oggi la città di Venaria e la Regia, ciò sta a significare che l'unicum funziona? Beh questo è un posto da Serie A, purtroppo non da Champions, un po' più in là non ce l'hanno fatta, ma da Serie A sicuro. Questo è un posto meraviglioso fatto di un castello, un Borgo Castello che non ha uguali, fatto di una Regia che secondo me è anche meno bella di Borgo Castello, anche se la cultura è più importante, fatto di una veneria che ha delle vie splendide in un posto tra l'altro di grande comunicazione vicino ad una grande città meravigliosa come Torino. Io credo abbiamo tutte le caratteristiche per fare del nostro meglio, per portare questo territorio ad un livello che tutti ci possano invidiare, ma non per essere invidiati, quanto perché è bello far vivere la nostra terra, la nostra città, la nostra regione, la nostra Italia. Tiene a veneria presso il castello della Mandria, quindi gli appartamenti reali, un'edizione degli stati generali delle associazioni, è un momento importante per la città perché le associazioni presenti oggi sono oltre 65 su 108 registrate nell'albo comunale, quindi una forte affluenza, una grande presenza che è significativa per un tema fondamentale che è quello di fare rete tutti insieme. Solo insieme riusciamo a far progredire la città, a fornire ai cittadini delle alternative per rimanere in città e quindi dare un contributo allo sviluppo di tutti quanti gli abitanti del territorio. È importante l'esecuzione di questi stati generali, di questo momento, perché abbiamo la possibilità di trattare dei temi tutti insieme e quindi valorizzare quelle che sono le competenze specifiche di tutti noi e dare delle informazioni che sono fondamentali. Gli stati generali si prefigurano come obiettivo quello di abilitare i contatti trasversali tra le associazioni affinché tutti insieme possano produrre delle novità, delle innovazioni che sono necessarie a tutti noi. Un parco della Mandria sempre più invidiabile? Il parco della Mandria rientra come valorizzazione all'interno del consorzio delle regge reali Sabaude, che acquisirà fisicamente controllo anche degli appartamenti reali prossimamente, per cui l'unicum reggia e parco della Mandria si sta completando. A questo si dovrà aggiungere ancora il borgo storico di Veneria Reale per finire l'opera e quindi avere una continuità a livello territoriale tra quelli che sono i patrimoni presenti sul territorio. Una Veneria sempre più turistica? Veneria sta avendo un boom di successi. Mi piace dire scherzosamente che siamo in competizione con Torino. Abbiamo visto dagli ultimi dati del Ponte di Pasqua un surclass da parte della città di Veneria verso la città di Torino. Ovviamente questo è indice di un'attenzione particolare da parte dei turisti che si spostano sul territorio alla ricerca di qualcosa che sia veramente nuovo e arricchente da un punto di vista culturale. Quindi sì, veneria ancora una volta al centro dell'attenzione. Ci auguriamo che stiamo lavorando proprio in questa direzione con l'amministrazione, con l'assessorato alla cultura e al turismo affinché lo sia sempre di più. Grazie. 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 Grazie.